ciao ragazzi la vedete questa goccia oppure questa qua il kiwi è una pianta che quando tu la tagli piange butta tanta guardate questo la vedi in tempo reale goccia 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 allora che cos'è l'acqua visto quanta acqua tutte queste cose hanno bisogno di acqua per vivere e gesù stesso oggi ci fa vedere che anche lui ha bisogno di acqua e c'è anche una signora che si rende conto che anche lei ha bisogno di acqua e va a trovarlo ma trovandolo si rende conto che la vera cosa di cui ha bisogno per poter vivere meglio è gesù stesso anche noi nella nostra vita abbiamo bisogno di tante cose ma alla fine la conta che cosa di più è sempre gesù anche in questi momenti perché se noi siamo adesso in casa e non riusciamo a fare tante altre cose lui è sempre comunque presente tutte le volte che preghiamo tutte le volte che ci ricordiamo di lui ed è lui la persona di cui abbiamo assolutamente bisogno necessario per la nostra vita buona domenica ragazzi statemi bene e fate anche voi state a casa grazie a tutti Grazie a tutti.